Iscriviti come artista accreditato o per arte in mostra IBF e partecipa all'Hydro Baskers Festival 2020. Hai tempo fino al 26 maggio. Vai su www.hydrobaskersfestival.com alla pagina iscriviti e scarica il modulo che fa per te. www.hydrobaskersfestival.com Iscriviti come artista accreditato o per arte in mostra IBF e partecipa all'Hydro Baskers Festival 2020. Hai tempo fino al 26 maggio. Vai su www.hydrobaskersfestival.com alla pagina iscriviti e scarica il modulo che fa per te. www.hydrobaskersfestival.com Grazie dell'attenzione. Oh ne, oh ne, oh ne, oh! Asterisco